Comportamenti antisindacali nei confronti dei dipendenti, ma anche una cattiva gestione dei pazienti con Covid. Sono le accuse del sindacato Fesica Conf, la Copselios, cooperativa che si occupa di servizi alla persona e che gestisce diverse strutture sanitarie in provincia di Pavia. I sindacalisti hanno proclamato lo stato di agitazione per la situazione interna a Villa Elvira, una RSA di Santa Maria della Versa. Comunque il dipendente dovrebbe essere perlomeno informato sull'ospite che sta arrivando, come arriva, come non arriva, se oltretutto in questo periodo critico che siamo sotto Covid. Sono successe alcune situazioni dove noi ci siamo impuntati, da un primo passaggio da ufficio dicendoti no è una semplice raffreddore piuttosto che una semplice altra malattia, impuntandoci noi lavoratori abbiamo scoperto che poi invece, grazie a tamponi della SST, questi erano pazienti positivi, pazienti che sono stati messi anche in stanze con altri pazienti, quindi già era successa una problematica in un'altra struttura. Non vorremmo che questo si ripete anche in questa attuale dove anche io personalmente ci lavoro da qualche mese. Alla situazione legata al Covid si aggiunge quella delle competenze dei dipendenti, spesso assunti con contratti diversi dal loro ruolo. I lavoratori lamentano anche dei problemi nella gestione dei turni e dei riposi. La fisica Consal ha chiesto un incontro in prefettura con Copselius per chiarire tutti questi aspetti, ma al momento non ha ancora ottenuto risposta. Sì, da diversi anni che questa cosa si porta dietro, noi da circa otto mesi siamo intervenuti come sindacato fisica Consal. abbiamo trovato delle anomalie molto gravi con riferimento a questa Copselius, tanto è vero che abbiamo fatto anche delle segnalazioni in prefettura e posso dire che grazie al vice prefetto abbiamo avuto un intervento che ci hanno contattato telefonicamente dove stanno seguendo il caso. È ovvio che noi non ci fermeremo perché noi siamo l'alternativa sindacale rispetto ad altri. per cui vogliamo far sì che si metta un po' di equilibrio su questa società, su questa cooperativa, scopi se li sono i confronti dei dipendenti che poi anche pare che siano ricartati nel campo lavorativo di come svolgere il proprio lavoro. Grazie. 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 Grazie.